top and flop dei dati auditel di ieri martedì 26 marzo partiamo innanzitutto dal podio il programma più viso è stato ovviamente italia lichtenstein partita di qualificazione per gli europei del 2020 su rai 1 seguito dal diavolo veste prada in replica su canale 5 e dalle iene su italia 1 ma per noi il top della giornata è il segreto la sopopera spagnola in onda su rete 4 comprata low cost da mediaset che ormai da molti anni continua a mettere successi a intercettare pubblico anche cambiando collocazione rete e orario quindi al top sicuramente il segreto su rete 4 flop invece per rai 2 con il collegio ma in realtà sono le repliche del collegio la rete di viale mazzini sperava di fare carne di porco quindi di non buttare via niente e cavalcare l'onda di questo programma che è diventato un cult per nuove generazioni ma purtroppo le repliche non hanno avuto lo stesso successo ieri è stata abbattuta da da tutti è stata l'ultima rete generalista della classifica con appena un milione di spettatori vi ricordiamo che tutti i dati li trovate su www.tvzoom.it noi ci vediamo domani